Non aver paura, non lo dirò a nessuno. Che cosa? Che non sei capace ad allacciarli. Vieni. Stai bene? Ehi, giovanotto, hai mai pensato di prendere delle lezioni? I giudici non riuscirebbero a resistere a quel tuo sorriso splendente. È gentile da parte sua, ma nella mia vita c'è già la musica. E potrei avere una canzone nuova da scrivere. Quindi la musica è importante nel pattinaggio, sai? Pessaci. Gli hai invitati perché avevi paura di stare solo con me? Certo che no, il fatto è che ho chiesto a Marinette di aiutarmi. Aiutarti a fare cosa? A perfezionare le mie abilità di pattinatore. Ma per questo non hai bisogno di lei. Hai la stoffa per essere una campionessa, stile, talento. Lascio che diventi il tuo coach. Io pratico le nobili arti, tiro con l'alco schermo. Il pattinaggio è un divertimento. Ti offro una settimana di lezioni gratuite. Qualche ora al giorno e ti metterai una stella. Grazie, ma sono molto impegnata già così. Adriana, grazie.